Mary Jane ASMR Ciao Ragazzi, buon anno a tutti Buon 2022 a tutti quanti voi ragazzi Come avete passato questo capodanno, questa giornata di festa? Spero bene, spero siate felici O se non avete ancora trovato la felicità Che questo nuovo anno vi porti tutta la felicità Che voi desiderate In ogni ambito Per qualsiasi cosa Dal profondo del cuore Vi auguro un buon 2022 Con la promessa che vi farò rilassare Anche quest'anno Spero anche meglio Possibilmente Allora Oggi vi porto un trigger Un po' particolare Lo scratching Sulla spugna del microfono Su questa spugna Con Le forchette Poi faremo anche qualche altro trigger Questo è un video Davvero Davvero Molto 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 Rilassante A mio parere Ne ho già visto qualcuno in giro Di questo genere Appunto Lo scratching Mick Fatto con Le forchette A mio parere È molto rilassante È molto rilassante E mi fa dormire Spero io sia in grado di fare Lo stesso Lo stesso con voi Andiamo subito a testarlo C'è luna vicino La telecamera La telecamera La telecamera Ma Ma advise Ma Grazie a tutti. 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 Passiamo adesso al zero. Grazie a tutti. 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 Buonanno. Buonanno.